alla mia veneranda età pensavo che ormai non mi sarei davvero più stupito di nulla specie da parte di photoshop eppure oggi sono qui a fare ammenda perché devo ammettere che la nuova funzionalità di intelligenza artificiale di tipo generativo inserita nella nuova beta di photoshop cc è qualcosa di sbalorditivo e secondo me ricorderemo proprio un'era di photoshop prima e dopo l'introduzione di questa funzionalità sto forse esagerando può anche darsi però osserviamo insieme cosa in grado di fare questa funzione e perché quindi rappresenta qualcosa di davvero rivoluzionario allora in prima battuta la premessa è questa si tratta di una versione e di una funzionalità ancora sperimentale disponibile nella beta di photoshop cc che tutti voi che siete abbonati a creative cloud o all'abbonamento quindi di photoshop potete tranquillamente installare attraverso l'applicazione di creative cloud quindi andate nella vostra applicazione desktop di creative cloud scorrerete semplicemente le applicazioni beta e qui troverete quindi la vostra versione beta di photoshop da scaricare e quindi potrete utilizzare sin da subito questa sbalorditiva funzionalità bene chiudiamo pure e cominciamo a vedere di che si tratta la prima cosa che voglio farvi vedere è una funzionalità dedicata a qualcosa che usiamo praticamente tutti i giorni ossia quando si tratta di rimuovere un soggetto e un particolare dalla nostra scena abbiamo degli strumenti potentissimi con photoshop tra cui appunto lo strumento di riempimento in base al contenuto anche al nuovo strumento sostituzione che abbiamo già esaminato in un video precedente ma qui siamo addirittura un passo oltre perché bene andiamo a prendere una prima immagine che si presta bene a questo scopo e supponiamo che io voglia quindi rimuovere semplicemente questo soggetto vado quindi a prendere lo strumento selezione oggetto vado quindi a individuare il soggetto che voglio rimuovere e già sappiamo è funzionalità questa già nota all'interno di photoshop abbiamo quindi selezionato il nostro soggetto aggiungiamo magari in particolare questo punto qua che non è stato selezionato propriamente ora con questa nuova versione di photoshop beta quando voi utilizzate uno strumento di selezione vedrete comparire questa barra orizzontale con una serie di opzioni ed è da qui che noi attingeremo alle funzioni di intelligenza artificiale di tipo generativo ossia prima cosa la cosa che mi conviene fare è selezionare da questa piccola icona l'espansione della selezione è una funzione che conosciamo benissimo in photoshop non è questa certo nuova ma mi serve semplicemente per allargare l'area che io voglio riempire di qualche cosa di nuovo al posto in questo caso del ragazzo che corre qui a fianco ok fatto questo sceglieremo riempimento generativo e questa la chiave di volta in questo momento compare ulteriormente sempre questa medesima barra in cui si chiede di imputare quindi una descrizione testuale di ciò che vogliamo che venga rappresentato al posto della selezione che in questo momento è attiva in questo frangente non ci interessa dare degli input lasciamo fare alla ai di photoshop e diciamogli semplicemente genera naturalmente questa è una funzione di calcolo che implica che voi siate ovviamente connessi a internet perché attinge una quantità impressionante di informazioni per utilizzare ed elaborare quindi la vostra immagine ma come vedete stiamo veramente parlando di una manciata di secondi e guardate l'incredibile risultato qui stiamo parlando del fatto che viene effettivamente creato qualche cosa di nuovo non vengono utilizzati pezzetti delle immagini circostanti per essere poi fruiti e rilaborati per riempire l'area che ho selezionato ma letteralmente viene ricostruita un'immagine creandone veramente di nuovo guardate per esempio anche le geometrie per più del marciapiede praticamente è perfetta questa funzionalità ha tra l'altro qualche cosa di veramente spettacolare osservate il pannello delle proprietà ci presenta in questo caso tre variazioni perché l'intelligenza artificiale crea anche delle variazioni rispetto a quello che ha creato in maniera tale che io possa valutare se per esempio si è più confacente questo tipo di soluzione questo tipo di soluzione o questo tipo di soluzione veramente fantastico inoltre osservate che viene creato anche un layer separato naturalmente che ci permette in qualsiasi frangente di ritornare alla situazione originale ok davvero potente guardate quest'altra possibilità uniamo adesso normalmente in un unico livello questa immagine perché perché questa funzione è potentissima anche se per esempio ho la necessità di estendere le dimensioni orizzontali di questo scatto e di questi soggetti ricreando quindi anche qui materiale fotografico non esistente ossia prendo in questo caso il mio fedelissimo strumento del taglierino e faccio per esempio un ritaglio orizzontale come questo è evidente quindi che ho bisogno di materiale fotografico per andare a riempire le maggiori aree che io sono andato a creare qui facciamo semplicemente una selezione leggermente più abbondante qui a sinistra e un ulteriore qui a destra fatto questo ancora una volta chiederò riempimento generativo e anche qua non gli dirò nulla lascio fare all'interno all'intelligenza artificiale di photoshop anche qua con un tutto sommato breve tempo di calcolo vedremo adesso un risultato che anche qui in questo senso ha per me veramente dello sbalorditivo perché è qualitativamente eccezionale osservate proprio come sono state veramente ricreate le aree in maniera perfettamente coerente guardate addirittura le luci cioè non ho parole e questo qua è solo l'inizio guardate vado adesso a chiudere questo documento non ci interessa e ne vado aprire un altro che si presta ancora di più per fare dei giochi ancora più divertenti ossia il le immagini generate dall'intelligenza artificiale mi permettono di fare delle elaborazioni assurde per esempio supponiamo che questa ragazza invece che mangiare del gelato stia degustando una sisa salad per esempio ora letteralmente vado a prendere lo strumento di selezione faccio una selezione oltremodo anche molto approssimata come vedete e adesso per quanto riguarda il riempimento generativo quindi di questa area che io sono andato a selezionare metterò una descrizione adesso di quello che voglio quindi andrò a scrivere semplicemente Caesar salad ok scrivete in inglese per il momento i prompt cosiddetti quindi le descrizioni sono accettate soltanto in lingua inglese e diciamogli semplicemente genera abracadabra ecco che la magia si sta materializzando in brevissimi tempi voglio mangiare una Caesar salad al posto del gelato padabampete ecco qua la mia Caesar salad ed è pazzesco il fatto che ha riconosciuto anche che una Caesar salad non si mangia con un cucchiaio si mangia con la forchetta e quindi ci ha messo la forchetta al suo posto e anche qui posso anche vedere tre variazioni della Caesar salad che sono stati generati dall'intelligenza artificiale potrei quasi anche fermarmi qua ma posso anche andare avanti e continuare a divertirmi per esempio mettiamo che al posto magari di questo bicchiere con questa bibita voglia metterci che so una bottiglia d'acqua gassata anche qui faccio una selezione molto approssimata andrò a chiedere ancora riempimento generativo e scriverò bottle of sparkling water vediamo se ho scritto giusto se ho scritto una scemenza in inglese sicuramente mi dirà che non trova nessun tipo di corrispondenza ma sembra che effettivamente stia lavorando alacremente diciamo per darmi questo tipo di risultato vediamo se effettivamente è così tadaaa ecco la mia bottiglia quindi di acqua gassata nelle tre varianti che sono state create e che io posso quindi andare a selezionare è sbalorditivo qua per esempio io vorrei chiedere semplicemente che quest'area fosse più riempita di alberi rispetto a questi elementi qua che non mi interessano allora facciamo anche qui una semplice selezione molto molto approssimata e voglio semplicemente che quest'area qui sia riempita di alberi riempimento generativo scriverò semplicemente tree quindi alberi diamogli un semplice ok e vediamo che cosa succede quindi davvero diciamo potentissima questa funzionalità proprio perché e adesso abbiamo effettivamente modo di apprezzarlo questa creazione come vedete ha tenuto conto della profondità di campo per cui sono stati creati come vedete alberi al posto di elementi che c'erano precedentemente e possiamo vedere tre variazioni diverse di questo tipo di elaborazione veramente spettacolare veramente incredibile diciamo che è uno strumento quindi che può essere utilizzato in maniera estremamente produttiva da un lato quindi semplicemente per appunto rimuovere l'imperfezione il soggetto il particolare è potentissimo per fare questo perché ricrea sulla base appunto di intelligenza artificiale degli elementi che altrimenti non sarebbero ricostruibili sostanzialmente ma può essere utilizzato in maniera anche estremamente creativa in parte come avete visto adesso oppure come posso fare per esempio utilizzando questa immagine ho visto questa immagine qua e diciamo ma magari da questa montagna voglio che sgorghi una cascata d'acqua allora faccio una selezione anche qui estremamente approssimata di quest'area così pruffete e adesso gli dico ancora una volta riempimento generativo e scriverò water fall quindi cascata d'acqua vediamo cosa salta fuori anche qui abracadabra giurin gioretto tempi diciamo di elaborazione comunque come vedete estremamente contenuti non sto accelerando non sto simulando assolutamente nulla e guardate che tipo di risultato abbiamo ottenuto in 448 e anche qui con tre diverse variazioni che io posso andare eventualmente a valutare e rendetevi conto stiamo parlando comunque di contenuti che vengono posizionati su un livello separato e che quindi sono a mia volta poi rielaborabili con tutti gli strumenti che conosciamo ampiamente di photoshop facciamo per esempio che so un altro tipo di elaborazione che può essere andiamo a creare a chiedere per esempio di selezionare di questa immagine banalmente il cielo ok e adesso come riempimento generativo gli chiediamo di creare un cielo nuvoloso scuro e tempestoso vediamo cosa salta fuori abracadabra anche qui vediamo che anche qui capite è una esplorazione di tipo creativo che posso veramente fare con una libertà davvero incredibile pochi secondi anche qui di elaborazioni ed ecco il tipo di risultato che ho ottenuto veramente spettacolare e anche qui con tre diversi tipi di variazioni potete tra l'altro notare che addirittura la stessa illuminazione delle montagne in questo caso cambia per essere ancora più coerente rispetto al prompt quindi e all'elemento che sono andato a inserire davvero spettacolare scaricatevi immediatamente la beta di photoshop CC e divertitevi con questo eccezionale e incredibile strumento Grazie a tutti